Sì, il migliore è quello che rallenta, sì sì sì, gli altri sono abbastanza meme Ma anche che rallenta in realtà è poco utile, cioè Non è così forte Dimmi che sono spawnati tutti i living cuts Ma perché? Ok, no Il cazzo è andato, madonna Sono volati proprio, andiamo qua Ormai è stato ceso, non so se mi conviene, vabbè, ormai lo inizio Però Dov'è che sono gli altri due? Lì, ok Uh, ci arrivavi, eh, il pallet, amica Ma ci arrivavi di brutto anche Siamo riusciti a tagliare un po' la... Oh, buono La gente che non si guarda dietro è sempre ottima Guarda una partita con la plague, dove i server si cansavano ancora più di venire interferiti Inutile dire com'è finita Ok, tre muri Mi hanno disattivato Quei due gen, ok Non mi hanno disattivato Sì ma Sono praticamente tutti, tranne questo, ok In realtà non voglio iniziare a just delay come Chase Ho preso, finalmente Qualcuno ha preso il condemned, è incredibile Che chiappone che c'ha comunque La tipa lì È thick Avrò off the record, Peng? No, perché comunque si è messa A riparare un generatore Però non ci arrivo Vediamo se riesco a tiparmi alla tv e a baitarla Spiri Gonzales mi chiamavano Beh Dove cazzo stanno gli uncini a parte questo qua sopra Che per arrivarci devo fare un giro dell'ostia Oh, salve Che cazzo ci fai tu? Signorina Jane Romero Oh, guarda Un bel pop Si è curata la signorina Jane Romero Ottimo Oh, il signor Pop Qua ha fatto Già un bel po' eh Tornato Andrea Sì Nope Questa parola è veramente scumper Come se l'è preso Sfortunatamente per lei Ok Nice Quello è dead Ottimo, ottimo game Questo game è già vinto Questo game è vinto Ce lo portiamo a casa Pops today è sempre buono Specie con tre mori Ciao low up Ciao Elias Buonasera ragazzi Come state? Oh, low, 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 low Un altro bel poppino Come stai low? Come stai? Oh, ho visto un corvo volare Eccolo lì Tipo, guardo sull'auser E' stato ottimo Ma non ci sono niente Ok, perfetto E cadde la connessione Quello può essere Siamo in fascia protetta Snake Cos'ho detto Cos'ho detto Di male Forse Allora Anche se fossimo In fascia protetta Il mio canale 18 più Quindi Vatagata su cazzo Sono 18 anni Colpa vostra Non mia Però popp come fa Il suo bel lavoro Un altro bel 20% I tremori tremendi Comunque fanno il loro lavoro Poppino A parte che non ho detto pompino Ho detto poppino Ed è un'altra cosa E' un pop piccolino Innanzitutto Il secondo luogo Chi sei tu? Ma perché non hai fatto subito il save zia? Cioè così facciamo un trader Ma va bene Non è che mi lamento Dubito fosse il 20 Beh devi consigliare Ah no Perché fa il 20 massimo E' vero Non fa più 25 Sarebbe stato un 15% Sì E forse No Tremori tremendi No Tremori tremendi Io lo chiamo sempre Tremori tremendi Ma vai al pallet Ah c'è un altro pallet lì Spero che c'è un inganno L'altro pallet Frumenti Ah si spiega Tremori tremendi Sì 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 Uh la goittata Dai Che palle Al mio malese Suona dalla sua parte Adesso inizierà a predroppare ogni pallet Che esiste Ah guarda Bloodlust Qua tanto Cambio loop Non so se ci arrivi amica Sono tornato Quanto manca Per eliminare una build 50 40 minuti Cruxy Quella già Nella lavorazione Nessuno Ah quello in fondo Ok E Su l'uncina Signorina Ciao capito Buonasera cara Come stai Sparita Ah ok Praticamente così Che gusti Tutto Se n'è andata È andata di qua No è andata di qua Eh chissà dove cazzo è Oh ho visto Era ancora in questa zona Eccola lì L'ho visto È andata al cadavro A rubargli l'oggetto Mi sa che gli ha rubato Il medikit Puoi ricorso come sempre Nella ultima serie di lavoro Della settimana Domani tra l'altro C'è il torneo signor Capito Se lo ricorda Vero Oh Ciao Jane Si è arreso Non voleva continuarlo Probabilmente Beh Andai un po' di corsa Ciao forse più tardi Vengo Mi trascino anche Cianni Va bene Lo up Noo L'ho mancata Certo Che è che mi sono appena Svegliato Ok Ok Senso Perché non mi ricordo Mai niente Mi stai dicendo Aki Ciao capito Dopo Buona doccia Comunque distrutti Hanno fatto solo un genzi Abbastanza Guagliò